È arrivato Rovella e io stavo aspettando questo momento, diciamo, l'ufficialità per parlarne Giovane, bravo, pagato un botto, siamo tutti svegli? Oh, questa è un'illusione, è il primo pensiero che sto avendo in queste ore Perché effettivamente Rovella è proprio quell'acquisto che non ti aspetti Allora, noi facciamo un attimino le cose con Cava Allora, siamo partiti con un mercato che era, non dico angosciante Ma da psichiatria, cioè ci stava portando tutti verso la psichiatria Immobilismo feroce, apparente incapacità di comprendere le necessità della squadra, del mister, della stagione che ci aspetta Un mercato che ci preoccupava parecchio un po' a tutti, parliamoci chiaro Anche quelli che dicono di no, no, ma io ero tranquillo, non è vero, eri agitato pure te che stai diccare tranquillo Quindi adesso vedere Castellanos, Isaksen, Camada, Rovella, Pellegrini E sembra che non sia finita qui Mi fa sospettare di essere morto E che questa non sia la realtà Perché la Lazio che fa un mercato intelligente, funzionale, di prospettiva Realmente all'altezza delle competizioni che ti appresti a intraprendere E che ti porta ad avere per la prima volta in non so quanti anni, penso da quando ci sta lo dito che non stavamo messi così Un'alternativa per ogni ruolo Ci abbiamo due giocatori per ogni ruolo Cioè, ma vi rendete conto? È qualcosa che io fatico anche a raccontare senza sentirmi come se me stessi a prendere il culo Perché è la realtà È la realtà, signori, è la realtà Adesso, a quanto male, dopo che è uscito Maximiano per prestito con obbligo di riscatto a 10 milioni E' una cosa incredibile Sembra che la Lazio si avvicina a Iuris E io sento Jet lamentarsi di Iuris E vi dico, ragazzi, lo so È un'estate in cui le nostre emozioni stanno facendo un po' Sali e scendi, sali e scendi Però respirate e ripetete con me Iuris è Iuris È Iuris Cioè, via far secondo, ragazzi La Lazio che ha Iuris, eventualmente, come secondo portiere Vuol dire che se prove del ciao un giorno storto, la febbre Noi possiamo dormire sonni tranquilli Non c'è più l'angoscia Cioè, io, io, veramente, ragazzi Noi l'anno scorso Paolo Maximiano Sfido chiunque a viverla diversamente Però diciamo che Che l'anno scorso Con un portiere Un po' più sereno Emotivamente In Europa League non te buttano fuori Ecco Quindi, diciamo che La prospettiva di affacciarmi alla Champions Al campionato Alla Coppa Italia Con Provedel Che è portiere Detto più di un'occasione Che avevo preso una cantonata clamorosa All'epoca a giudicarlo male Quando arrivò Provedel Che è stato il miglior portiere Della scorsa stagione E Rioris Ragazzi Ma di che stiamo a parlare? Capitolo Bonucci Allora in questione si parla tanto anche di Bonucci Io inizialmente ero abbastanza restio Chi mi segue su Instagram lo sa Ne parlavo in toni abbastanza 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 Brutti Nel senso che Non mi sembra Cioè In un periodo in cui non è arrivato nessuno Sentì parlare di Bonucci Mi stava a fare i bolli Il sangue Perché non era l'uomo Che serviva in quel momento Ok Ora Dopo l'acquisto di diversi giocatori Estremamente giovani Io Bonucci Lo vado a prendere io Se serve Cioè Presidente Sono disponibile Vado io in macchina Lo porto a Roma Perché Adesso Per il modo in cui Si è evoluto il mercato Per la Lazio Che c'è adesso Bonucci Sarebbe una benedizione Questa Cioè Noi ci siamo spesso lamentati Di quanto in squadra Mancasse gente Con un po' di Eh Se siamo capiti Quest'anno non c'è Radu Quest'anno non c'è Radu Gente d'esperienza Specialmente Con un'esperienza A certi livelli Serve come pane Ragazzi Serve uno Che quando la partita L'approcci male Negli spogliatoi Fa quello che deve fare Uno con esperienza Ok Serve Serve gente Che sappia anche Preparare mentalmente Certe partite Serve gente Che riesca in qualche modo A motivare i giovani A fargli capire Certe cose E in questo senso Iorisse e Bonucci Magari aveceli Uno ha vinto il mondiale L'altro L'altro Se sa quanto roba ha vinto Voglio dire Sono due giocatori È È il concetto De Pedro Ragazzi Ma avete idea di quanto Sia importante uno come Pedro Sì ce la avete Perché ce l'abbiamo avuto In questi anni Ora provate a pensare Quello che può diventare Sta squadra Con dei senatori Del genere Con così tanti giovani Da poter crescere Sotto l'ombra Di vecchi campioni Sta squadra Può diventare Veramente scomoda Quindi Io non mi metto A fare i proclami Ah possiamo fare A me interessa Che la squadra Sia completa Poi sarà il campo A parlare Noi non Non ci mettiamo A fare i voli Pindarici E le sparate Però a me interessa Che la squadra Sia completa Come non lo è mai stata In questi anni Che abbia dei giocatori Importanti In crescita Di prospettiva Ma anche Dei giocatori Che in qualche modo Conoscano Il calcio E i suoi momenti Più critici Quindi vi dico Magari arrivassero Con tutti questi giovani Magari arrivassero Iorisse e Bonucci Poi Capitolo mezzala Manca la mezzala Io ve lo ripeto Secondo me Presidente Un regalino Finale Lo farà Ora tocca Capir quale Sento parlare Di Gendosi Ma magari C'è cascassa Ragazzi Insomma Che veramente Mò si mettiamo A parlare Poi di Gendosi Allora Vuol dire Veramente Che stiamo diventando Di bocca buona Di bocca troppo buona Io vi ricordo Con chi se siamo dovuti Fa gli ultimi anni Gendosi Sarebbe Non un upgrade Ma proprio Passi a un'altra categoria Passi a un altro sport Per non parlare Di altri Di altri nomi Che neanche faccio Per scaramanzia Ma insomma Nelle ultime ore Ne girano parecchi Uno in primis Pure quello Presi testa e servo Vado a Pia Io pure quello Non c'è problema Mi faccio il giro d'Italia Mi ricarico tutti E poi ritorno Mi offro volontario Da spese Mi ci metto io Pure a Benza Non c'ho bisogno Faccio io Anche se costa Due euro e cinquanta Due euro e settanta Al litro Non importa Per la causa Questo ed altro A parte tutto Però davvero Ragazzi Cioè Se noi chiudiamo Sto mercato Con qualche eccessione Confermati tutti E arriva pure Una mezzala Oltre a Ioris E magari Bonucci A fa Il quinto Se quello che vi pare Il motivatore Non mi interessa Sta squadra Veramente Potrebbe essere La più completa Dell'era Lotito Con tutte Le possibili Conseguenze Del caso Ma io Ripeto Finalmente Sarri Avrà una squadra Di livello Già adesso Ragazzi Già adesso Anche senza Ioris Anche senza Bonucci Anche senza la mezzala Adesso è una bella squadra Obiettivamente Il mercato che hanno fatto È un buon mercato Veramente Considerate le premesse Considerate I soldi spesi È un ottimo mercato Ragazzi Veramente ottimo Hai un rincalzo Valido In ogni Dannatissimo ruolo Forse è giusto Un difensore Al posto di Chila Ma Ma pure lì Ma aspettiamo A dirlo Perché Cioè Sarri A livello difensivo Ha fatto dei miracoli Nel corso Del tempo Per cui Chissà Ripeto Ha trasformato Patrick In un giocatore Veramente Valido Adesso Per cui Casale Romagnolo Padri Ila Sarriva pure Bonucci A far quinto Io penso che stiamo Stiamo veramente messi bene In ogni parte del campo Adesso L'importante È tracciare qualcuno Io mi auguro Con tutto l'amore del mondo Verso il giocatore Beh Verso il ragazzo Che basic Magari Vada a trovare fortuna altrove Perché qui ci dice Tipo Tipo L'ananas Sua pizza Boni tutte e due Ma insieme no Ecco Per cui Vediamo Però ripeto Ragazzi Per una volta Mi dico Sereno Mi dico Allegro Mi dico Speranzoso Il 31 agosto Non starò Catafratto A letto A sentire la radio Per la prima volta Non so quanti anni Insomma Stiamo Stiamo Aspettando Il botto finale Che non è mai arrivato È un anno In cui noi Ce la facciamo Al campionato Alla prima del campionato Con la squadra Completa E Ragazzi Chi l'avrebbe mai detto Ragazzi Forza Lazio Sempre E noi ci s'aggiorna Non appena ci saranno Ulteriori novità Se no C'è se pensa Settimana prossima Eh